Papa Francesco sta bene, lavora dall'ospedale Gemelli dove è ricoverato e comincia a muovere qualche passo e ieri la preghiera dell'Angelus in privato. Quando l'Eucarestia è celebrata nella divisione è un insulto a Gesù. A dirlo è stato ieri Monsignor Luigi Manzi, vescovo della Diocesi di Andrea, durante la celebrazione del Corpus Domini. Ragazzi con disabilità della locanda del Giullare di Trani portano in tavola il gusto dell'imperfezione grazie ad un progetto di inclusione. Accorato si è tenuta la cerimonia di conferimento di 23 borse di studio a studenti meritevoli di Puglia e Basilicata grazie alla Fondazione Intercultura Onlus. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Papa Francesco sta bene, lavora dall'ospedale Gemelli dove è ricoverato e comincia a muovere qualche passo. Dunque è positivo lo stato di salute di Bergoglio che ieri ha dovuto rinunciare a condividere l'Angelus con i fedeli recitandolo da solo. Ma cambiamo argomento. Quando l'Eucarestia è celebrata nella divisione è un insulto a Gesù. A dirlo è stato ieri Monsignor Luigi Manzi, vescovo della Diocesi di Andrea, durante la celebrazione del Corpus Domini, trasmessa in diretta su Teledeon, anche in lingua dei segni. Sentiamo le parole del pastore. L'Eucaristia ci unisce. Gesù ci unisce. Non ci uniscono le nostre persone perché noi siamo diversi, siamo limitati. Chi ha un difetto, chi ne ha un altro, chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Noi siamo quelli che siamo e tante volte la convivenza è difficile. Tutti facciamo questa esperienza. Ci vuole tanta pazienza, tanta capacità di perdono, ci vuole tanto, tanto, tanto amore. Ecco l'Eucaristia. Gesù ci unisce. Quando non riusciamo ad essere uniti vuol dire che siamo lontani da Gesù. Noi non siamo degni e non saremo mai degni di celebrare l'Eucaristia, mai. però accogliendo questo dono Gesù ci unisce. Non le nostre persone, non i nostri gruppi, i nostri standardi, i nostri distintivi. Stasera c'è una bella passerella nella processione. Gesù ci unisce. Una è la Chiesa, uno è l'altare, una è la mensa, uno è il corpo. E allora se noi ci lasciamo plasmare di più da Gesù, certamente riusciremo di più a celebrare delle Eucaristie che non siano degli insulti a Gesù. Sì, perché quando l'Eucaristia è celebrata nella divisione è un insulto a Gesù. Non lo dimentichiamo mai. Se veramente invece ci apriamo al Signore, ogni Eucaristia sarà un passo avanti nell'unità, nella coscienza di tutte le nostre colpe e miserie, ma con la voglia matta di unirci e di essere uniti. E questa voglia non ci deve mai lasciare, anche nei momenti più difficili che ci fanno anche soffrire. Ecco che davvero il Signore ci aiuti ad essere uno in Cristo. Amen. I ragazzi con disabilità della Locanda del Giullare di Trani portano in tavola il gusto dell'imperfezione, grazie ad un progetto di inclusione. Sentiamo. Piatti da sporto che rispettano il gusto della tradizione pugliese preparati dai collaboratori della Locanda del Giullare di Trani, dove la parola d'ordine è l'inclusione. Ragazzi disabili e adulti in situazione di fragilità sono i veri protagonisti della nuova avventura culinaria lanciata dalla cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani. È partito da Piazza Mazzini il Truck Food del Ristorarte, che porterà in giro per la Puglia il gusto dell'imperfezione. Con questa esperienza abbiamo notato alla fine che comunque i ragazzi, dopo aver essersi approcciati al lavoro, la cosa più bella che è successa è che tra di loro sono diventati amici, la cosa realmente bella è che tra di loro si incontrano, vanno a farsi le pizze, vanno a vedere un film, passeggiano, quindi tutto ciò realmente è bello proprio perché vivono la normalità a 360 gradi. Rendermi utile è la cosa più bella che mi gratifica e poi in questo lungo percorso ho conosciuto tanta gente e mi sento molto gratificato. Tra sala e cucina nel Ristorarte i ragazzi con disabilità danno il meglio di sé e si dilettano in piccoli show che verranno replicati in tour con questo nuovo progetto. La cosa che mi piaccia di più è quella dell'artista perché a me dentro l'Occana fanno fare l'artista, quindi che disegno le persone, faccio i ritratti, le persone faccio le loro caricature. Decisamente è un'esperienza che lascia qualcosa di più rispetto a un qualsiasi altro aiuto in un ristorante perché effettivamente è il messaggio che io ho voluto dare in televisione ovvero inseguite i vostri sogni, i vostri figli possono farcela e la Locanda del Giullare è la dimostrazione che è la verità. L'amministrazione è sempre stata al fianco di questa iniziativa quindi oggi per noi è l'ulteriore conferma della bontà del progetto. Il track ovviamente circolerà anche in zone dove il traffico è limitato proprio per la finalità sociale quindi daremo una mano anche da questo punto di vista e chi si rivolgerà ai ragazzi del track saprà in quel momento non soltanto di acquistare prodotti di qualità ma soprattutto di contribuire a questo percorso di inclusione. E ci spostiamo a Corato dove si è tenuta la cerimonia di conferimento di 23 borse di studio a studenti meritevoli di Puglia e Basilicata grazie alla Fondazione Intercultura Onlus. Il servizio. Arricchire i ragazzi di un bagaglio culturale, conferire loro la capacità di scelta che li accompagnerà nel resto della loro vita. La Fondazione Intercultura grazie alla collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo ha riservato 23 borse di studio a studenti meritevoli residenti in Puglia e Basilicata per vivere e studiare all'estero. È un concorso al quale partecipano studenti della fascia di età dai 15 ai 18 anni per un programma di studio all'estero. Stasera abbiamo la premiazione dei vincitori delle borse di studio, dei vincitori di questo concorso. Ovviamente sono ragazzi meritevoli, ragazzi curiosi che hanno voglia di scoprire il mondo e di apprendere nuove culture, portando poi diventando ambasciatori della cultura italiana all'estero perché conoscendosi si superano tante barriere e quindi questa è la cosa che speriamo possano utilizzare le nuove generazioni essendo più preparate, pronte ad affrontare situazioni diverse, avere un bagaglio non solo culturale ma anche proprio di trasversale, di essere capaci di adattarsi e di cogliere il meglio da situazioni nuove. Un percorso educativo è un'esperienza di crescita che l'Associazione di Volontariato promuove come dialogo interculturale e di scambi scolastici internazionali. Siamo già al quinto o sesto anno di sostegno alla Fondazione Intercultura e c'è stata questa pausa forzata della pandemia, finalmente siamo ritornati alla normalità per cui insomma con grande slancio ricominciamo a far partire questi ragazzi per questa esperienza che è fondamentale, che apre poi anche loro ad un orizzonte insomma vasto che ha dimostrato negli anni di dare veramente un valore raggiunto al loro percorso scolastico e poi anche professionale. È un po' sulla scorta di dare anche una possibilità a chi vive una situazione anche di svantaggio nel poter fare questa esperienza nel nostro paese, che comunque è un paese insomma moderno insomma anche che ha delle prospettive floride e quindi puoi tornare nel proprio paese con un bagaglio anche culturale, esperienziale, emotivo anche importante. I vegetali è al posto dei carboidrati per curare il fegato grasso. È l'ultimo studio condotto dall'Istituto Nazionale di Gastroenterologia De Bellis di Castellana Grotte su 40 pazienti. Il servizio di Damiana Dorotea Sgaramella Sostituire ogni giorno un alimento ricco di carboidrati con una porzione di verdure per tre mesi migliora la steatosi epatica, chiamata più comunemente fegato grasso, e i primi segni di fibrosi epatica. Lo dimostra uno studio condotto dall'Istituto Nazionale di Gastroenterologia Saverio De Bellis di Castellana Grotte su 40 pazienti con steatosi epatica non alcolica. Questa patologia, molto diffusa in Occidente, in alcuni casi può svilupparsi in cirrosi o a volte tumore epatico. I risultati di questa ricerca sono stati sorprendenti. Ai pazienti è stato prescritto un lieve cambiamento del loro regime alimentare, lasciando pressoché inalterato il loro stile di vita. Per loro non è stato difficile mantenere una buona adesione al nuovo regime alimentare. Gli esiti dello studio hanno fatto emergere che tutti i parametri antropometrici sono migliorati tra i nati dalla diminuzione del peso corporeo. Inoltre si è verificata una riduzione del fegato grasso e dei primi segnali di fibrosi epatica, quantificata da due parametri diversi che considerano dati biochimici e strumentali. Nel dettaglio, ad ogni paziente sono state consegnate delle porzioni di verdure fornite gratuitamente da un'azienda agricola foggiana. Da contadini siamo orgogliosi di aver partecipato a un progetto di ricerca con l'ospedale Saverio De Bellis di Castellana Grotta, un progetto che ha vista protagonista la nostra azienda, l'azienda Spirito Contadino, un'azienda che oggi ha 100 anni di storia, dove abbiamo consegnato le nostre verdure gratuitamente, esattamente quattro delle nostre verdure, delle cicorielle selvatiche di campo, germogli di torsella, cime di rape e senape selvatica di campo. Un metodo che ci permette di garantire delle qualità organolettiche uniche e come l'ospedale ha potuto dimostrare, ha potuto constatare, con dei benefici anche per il nostro corpo umano, per i pazienti che hanno mangiato queste verdure. Noi riteniamo essenziale condividere e soprattutto partecipare a un progetto nobile come questo e quindi collaborare con la medicina perché riteniamo anche che noi esseri umani siamo quello che mangiamo e respiriamo. Gli alunni dell'Istituto Preziosissimo Sangue di Bari imparano a conoscere Don Tonino Bello attraverso il disegno, la poesia e le sue canzoni. Vediamo. Un percorso scolastico durato due mesi in cui oltre 100 bambini dell'Istituto Preziosissimo Sangue di Bari si sono impegnati nella realizzazione di elaborati disegni e poesie su Don Tonino Bello, partendo proprio dai suoi testi. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Leali del Sorriso per avvicinare i più giovani al pensiero del venerabile e trasmettere alle future generazioni la grande eredità che ha lasciato. Abbiamo lavorato con i bambini di questo istituto che ringrazio l'Istituto Preziosissimo Sangue per averci accolti e quindi appunto per insegnare ai bambini che cos'è questo grandissimo uomo, questo grande vescovo appunto che è il Don Tonino Bello. Una bella amicizia è stata un'occasione per ricordare l'amato vescovo. Tra le aneddoti, i ricordi e la preziosa testimonianza dei suoi compagni di viaggio. Quando i bambini piccoli lavorano, lo fanno sempre con molto entusiasmo e viene sempre una bella cosa e quindi per Don Tonino Bello la bella cosa ci voleva. Parlare con i bambini è sempre molto difficile, lui riusciva a farlo e spesso lo faceva anche con un'aiuto della musica, della fisarmonica. Era un clima di gioia, un clima di armonia e lui diventava bambino tra i bambini. L'umiltà anzitutto, l'approccio, il voler stare vicino agli altri, ecco, la voglia di stare insieme agli altri, mai da solo. Non l'ho mai visto da solo Don Tonino Bello, sempre circondato da persone, di tutte le età. E' importantissimo e fondamentale che ci siano per la città di Bari queste associazioni che non sono a scopo di lucro e che quindi con grandi sforzi mettono in piedi queste iniziative che non possono far altro che migliorare la vita dei cittadini, dei nostri comunitari. Si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS